Un Consiglio regionale straordinario oggi con un unico punto all'ordine del giorno, l'emergenza economica e sociale determinata in Regione Abruzzo, dalla cancellazione dell'accedibilità dei crediti fiscali ad opera del Decreto Legge del 16 febbraio 2023. La questione del super bonus 110% e delle scelte del Governo continua a far discutere, così 5 Stelle e il centrosinistra hanno chiesto questo Consiglio straordinario, anche perché chiedono al Presidente Marsiglio delle risposte e cosa intende fare. L'opposizione attacca dicendo che proprio quando la Regione deposita e approva il progetto di legge per l'acquisto dei crediti fiscali del super bonus, il Governo Meloni dice stop. Ad oggi ci meraviglia che in prima battuta, a febbraio, dopo la nostra proposta di legge, che cercava di sbloccare quelli che erano i cassetti fiscali, ne sono seguite altre due, che poi 24 ore dopo sono state smentite dal Governo a livello nazionale con un decreto vergogna che mette in ginocchio famiglie e imprese a livello nazionale e a livello regionale. L'Abruzzo oggi deve avere le risposte. La mano destra non sa cosa fa quella sinistra. Il giorno prima approvano in giunta regionale, rincorrendo un disegno di legge delle opposizioni, in particolar modo del Movimento 5 Stelle, il tema dell'acquisto dei crediti da parte della pubblica amministrazione, in questo caso della Regione, il giorno dopo la Meloni smentisce lo stesso Marsiglio. Evidentemente non si parlano, evidentemente la filiera non funziona, il risultato è che migliaia di persone, cittadini e imprese rischiano davvero tanto in ragione di queste scellerate scelte del Governo Meloni, per i quali appunto noi chiediamo al Governo regionale con questo Consiglio straordinario di impegnarsi a fare tutt'altro. Intanto, sul superbonus 110%, il Governo sembra intenzionato ad apporre dei correttivi e si va verso la proroga della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli immobili danneggiati dal sisma, deroghe che potrebbero arrivare il prossimo lunedì in aula con il pacchetto di emendamenti al decreto del Governo che ha bloccato cessione e sconto, ma non c'è tutta questa serenità e la situazione è preoccupante. Presidente Sospiri, la Regione aveva fatto la sua parte su questa questione, c'è preoccupazione ora viste le mostre del Governo? Sarebbe una preoccupazione ovviamente, ma anche comprensione del fatto che la bolla economica che il 110% della sua degenerazione aveva avviato andava fermata. Questo però non vuol dire che adesso il Governo non debba apportare emendamenti correttivi nella fase di conversione del decreto che ha approvato, facendo la propria parte come sistema Paese e chiamando le banche a fare la loro parte. Dobbiamo salvare dagli incagli tutte le attività che erano state legittimamente avviate e che meritano di essere finanziate.